Mentre in Puglia scatta la zona gialla rinforzata, Brindisi città fa segnalare alti 100 positivi, probabilmente conseguenza dei cenoni in casa di fine anno, la speranza di più è deposta nei vaccini anti-covid. Saranno 7.000 le persone vaccinate entro la prima settimana di febbraio, secondo il cronoprogramma Brindisi e provincia. Entro il 25 gennaio dovrebbero arrivare tutte le 14.000 dosi che la regione ha previsto per gli operatori sanitari del Brindisino, per il personale e gli utenti delle RSA. Al momento è stato vaccinato poco più del 50% degli operatori sanitari. Non sono mancate però in questa fase le polemiche partite da una segnalazione del Presidente dell'Ordine dei Medici Arturo Liva, che avrebbe segnalato alla ASD vaccini somministrati a persone fuori dalla lista, come sarebbe accaduto a Modena. Secondo il Presidente dell'Ordine dei Medici, che ha scritto alla ASD, il 4 gennaio scorso sarebbero state effettuate vaccinazioni a soggetti che non facevano parte dell'ordine di priorità. Una questione sulla quale vuole vederci chiaro la ASD, che ha avviato tutte le verifiche del caso con una indagine interna. Intanto le persone presumibilmente già vaccinate in questa prima fase, pur non avendo diritto, dovrebbero ricevere anche la seconda dose. Grazie! Grazie! Grazie!